Un risultato straordinario, oltre mezzo milione di voti in più, un risultato travolgente tra le giovani generazioni, oltre il 40% del voto dei fuori sede, è il frutto di un lavoro lungo, coraggioso e coerente, è il frutto di scelte coraggiose come quelle delle nostre liste, è il frutto di proposte che hanno messo al centro la pace contro la guerra, la giustizia sociale e la giustizia ambientale. Oggi ci godiamo questi risultati in un'Europa più nera, ma lavoriamo già da oggi pomeriggio all'alternativa per l'Italia.